Sono l'architetto Pecorangelo con studio Imbridio. Mi sono rivolto alla broker per la telefonia e consulenza SRL per risolvere un problema con il gestore della Vodafone. La broker ha risolto in modo efficiente tutti i miei problemi anche a livello legale con un rimborso pari euro 150. Io consiglio vivamente a tutti di rivolgersi alla broker per qualsiasi consiglio e aiuto. Buongiorno.